Al Carbonchi di Sasso Marconi va in scena lo spettacolo tra Secondra contro Prima, tra Sasso Marconi contro Rimini. Partita che regala emozioni fin dai primi minuti e che trova le concretizzazioni però solo nella ripresa. Questa la cronaca del match. Ottavo minuto, prima occasione di giornata, Noselli entra in area e spara al tiro. I piedi di Scotti sono provvidenziali. Tredicesimo, cross in mezzo per i padroni di casa, ci prova Zecchini che di testa schiaccia troppo, palla alta. Trentesimo, ancora Sasso in avanti, cross cioccolatino di Cortese, di testa va Benatti che non inquadra la porta. Trentaseiesimo e ancora Benatti che sale in cattedra a slalom speciale e conclusione, Scotti è provvidenziale. Trentanovesimo, risponde Rimini con la prima occasione di giornata. Cross dalla destra di Fabri, salta troppo in anticipo Longhi, Cicarevic non se l'aspetta e in contotempo manda il pallone oltre la traversa. Quarantacinquesimo, Benatti col pallone tra i piedi, altro gioco di prestigio, salta il difensore, scarica la bordata, ma è miracoloso una volta di più. Scotti che decreta la fine del primo tempo sullo 0-0. Le due squadre tornano sul terreno di gioco e dei Rimini a partire forte. Cinquantunesimo, la squadra di Mister Mastro Nicola si proietta in avanti e trova al centro del bersaglio. Discesa e cross dalla sinistra di Guibre. Liscio di Fabri, palla che arriva a Darlotti che spara. A centro area c'è lo stesso Fabri che da terra trova il gol del vantaggio. E' 1-0 Rimini. Cinquantanovesimo, fallo sui 25 metri, va Cortese sul punto di battuta. Pericolosissima la traiettoria del pallone che impegna in angolo un grandissimo Scotti. Sessantatresimo, la palla carambola in area di rigore del Rimini. Carnesecchi frana su Benatti che cade a terra. Per il direttore di gara non ci sono dubbi, è rigore. Dal dischetto va Noselli, la rincorsa, il tiro e la parata di un immenso Scotti. Sessantacinquesimo, ancora Noselli a trascinare i suoi. Cavalcata sulla fascia, entra in area di rigore a tu per tu con Scotti. Ma il portiere bianco-rosso oggi è in forma strepitosa. Ottantatresimo, fallo di giù al limite dell'area. Noselli si presenta ancora una volta alla battuta e questa volta disegna una parabola perfetta e imprendibile anche per il portiere in giornata di Grazia. È 1-1 Sassomarconi. Gli ultimi minuti passano nella tranquillità più totale. La partita termina 1-1 con il Rimini, ora a 92 punti, che potrà quindi arrivare a quota 98. Se i due match a venire saranno vittoriosi, il Sassomarconi invece conquista un punto fondamentale nella corsa al secondo posto. Vedremo chi la spunterà tra Sassomarconi e classe.